Non ci sono mai stati tanti soldi in una finanziaria nella storia di questa regione autonoma e sono tutti spreperati per creare solamente consenso, non ci sono azioni forti né per contrastare le crescenti disparità nella nostra regione, non dimentichiamo che stanno crescendo proprio i nuclei familiari che sono in povertà relativa, c'è nessuna misura significativa per il contrasto al degrado ambientale, ai problemi dell'acqua, abbiamo avuto siccità, i problemi che riguardano anche l'ambiente più in generale, la qualità dell'aria. Non ci soddisfa per niente, il mio collega redattore ha già espresso anche in relazione generale qual è la nostra posizione rispetto a questa manovra che secondo noi non dà alcune risposte certe ai cittadini e soprattutto non affronta questioni urgenti come i rincari, i bolletti e quant'altro, o anche il tema dell'ambiente che è un tema che dovrebbe essere il posto al primo piano ma invece non vediamo neanche in questa manovra. Soprattutto mi sembra una legge che non ha una visione strategica a lungo raggio e quindi mi sembra che è fatta soprattutto in visione delle prossime elezioni regionali. Per quanto la minoranza slovena devo dire che le richieste che sono state poste più o meno dovrebbero essere accettate visto che siamo ancora in fase di discussione e quindi credo che da questo punto di vista dovrei esprimere la mia soddisfazione.